La sera ora è il Vlachimovic, ora insieme della Varrera, che golasso! Vedremo chi partirà, parte Recomba con sinistra, conclusione, rete! Un gol straordinario, otto minuti e la partita cambia già volto. Straordinario e questo giocatore ha queste capacità, straordinario, non ci sono altri aggettivi. Calciata benissimo di Collinterno sull'incrocio dei pali, Pagliuca non poteva assolutamente farci niente, grandissimo. Well, it dipped and it's gone in, what a magnificent strike! You will not see many better free kicks than that, Juninho. Burro, tökisch angeschnitten, das kennen wir ja von ihm. In Leipzig überlistete er René Müller, heute Detlef Zimmer. Er ist schon ein schlitzohr, wie Lothar Kukkeweid nach dem Spiel sagte. Mit seinem starken linken Bein dreht er... E il chuta forte, o Geraldão. Tem que ter cuidado, goleiro Batista. Dè un chute violento, Geraldão. Lá vai ele. Pro gol! Gol! Do Cruzeiro! Geraldão! Uma falta cobrada magistralmente pelo jogador mineiro. Eu falei que ele come... Here comes Pai. Oh, my words! Absolutely magnificent! Wayne Hennessy didn't even move. Stunning! Well, he's double-guessed him. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. impressive. I don't believe it. I don't believe it. Grazie a tutti. Grazie a tutti.